Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e il nuovo avviso pubblico lanciato dalla Regione Calabria è dedicato alle donne calabresi. Obiettivo è quello di promuovere azioni in grado di migliorare e accrescere i servizi alla persona. Un progetto finanziato appunto dalla Regione Calabria per un totale di oltre 590 mila euro che vede la sinergia tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità e Regioni. Un piano al quale ha deciso di aderire anche l'ambito territoriale ottimale Praia Scalea che comprende 15 comuni ricadenti sulla riviera dei Cedri, sia interni sia costieri e che ha Praia Mare come ente capofila. Da Tortora a Belvedere Marittimo, da Ieta a Bonvicino. L'ATO ha pertanto lanciato la manifestazione di interesse per rendere maggiormente accessibili i servizi di cura alla persona e per rispondere alle sempre maggiori esigenze occupazionali delle donne, in particolare con figli a carico. Il progetto infatti prevede servizi educativi e stili per i bambini di età inferiore ai 10 anni, come ad esempio colonie estive o intrattenimenti per minori, appunto per conciliare le esigenze delle madri in cerca di occupazione o che vogliono specializzarsi attraverso corsi di formazione. In questo modo gli enti locali individuano sia le società, le imprese, le associazioni e le fondazioni che possono offrire lavoro, sia le persone, in questo caso le donne, che sono alla ricerca di un'occupazione o con un contratto atipico e non autosufficienti. Altri requisiti sono la residenza in uno dei comuni del lato, una situazione economica ai 6 e non superiore ai 10.000 euro e con figli a carico con meno di 10 anni. Il valore di ogni voucher sarà di 600 euro che saranno erogati nell'arco dei 6 mesi. Le domande si possono trovare in forma precompilata sul sito dell'albo pretorio dell'ente praiese e dovranno essere presentate entro il prossimo 26 luglio a mano o tramite servizio postale presso il comune di Praia Mare.